La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in un 325 paesi. E allora continuiamo cambiando categoria, anche qui è una categoria centrale, quella delle telecomunicazioni. Il premio è eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, sistemi di telecomunicazioni mobili. E il premio va a Snap Phone. Un bel applauso. Eccoli, 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 pronti a fare il blue carpet per essere leader sul territorio nazionale nel settore della telefonia mobile a noleggio, grazie alla proposta di diverse soluzioni altamente innovative per la comunicazione, per rispondere in maniera rapida ed efficiente alle diverse esigenze che il mercato richiede, garantendo un servizio di qualità e sostenibile, puntando su tecnologie avanzate e smart per l'ambiente. Eccoli, complimenti, benvenuti anche a voi. Complimenti a Snap Phone, premiato come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, sistemi di telecomunicazioni mobili. Bravissimi, grazie a voi. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie. Siamo in compagnia di Costanza Thomas, amministratore unico di Snap Phone. Benvenuta. Salve, buonasera. Questa sera siete stati premiati come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, sistemi di telecomunicazioni mobili. Come commenta questo prestigioso riconoscimento? Sono fortemente orgogliosa per essere stati selezionati e premiati. Per noi è un onore ricevere questo riconoscimento. Ringraziamo le fonti, annuale delle fonti e awards, per il successo che Snap Phone sicuramente trarrà anche a livello internazionale in ambito di questa business community. Oggi si parla molto di sostenibilità ambientale. È uno dei temi più discussi e più sensibili per le aziende. Vengono fatti numerosi investimenti e anche molte iniziative. Ecco, le chiedo a questo proposito. Come vi state approcciando a questo argomento? I nostri investimenti nelle tecnologie digitali sono strettamente correlati a target di sostenibilità con crescente attenzione all'impatto ambientale e all'economia circolare. Riteniamo che l'IoT sia imprescindibile per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Sono sempre più le aziende, piccole, medie, grandi, nazionali, multinazionali ed anche enti pubblici, che si affidano alle nostre soluzioni green, privilegiando il noleggio piuttosto che l'acquisto. Il mercato in cui operate è uno di quelli che si sta evolvendo più velocemente. Ecco, a questo proposito le chiedo come riuscite a stare al passo di questa evoluzione e anche ad anticipare il percorso futuro? Noi ci riteniamo innovatori nel cuore. Per noi ogni giorno è un giorno di scuola. I clienti, prima di tutto, non crediamo in un approccio unico per tutti. Ci dedichiamo alla progettazione, all'implementazione di soluzioni su misura. Poi che cosa contano? Le partnership contano. Vantiamo, curiamo e rafforziamo i nostri rapporti commerciali con partner di fiducia nazionali ed esteri, con un occhio sempre attento all'evoluzione del mercato di settore. Bene, grazie e ancora complimenti per il vostro riconoscimento. Grazie a voi.